Siamo però anche live. Buonasera a tutti. Benvenuti all'episodio di stasera di Restart. Io sono Roberto Reale, presidente Eutopia. Stasera abbiamo con noi il professor Giuliano Lucci. Buonasera. Buonasera, professore. Grazie di essere qui. Grazie a voi per l'invito. Giuliano Lucci, professore di strategia e marketing alla Politecnico di Milano ed è anche, e questo è il motivo per cui l'abbiamo poi invitato ad essere con noi, è il prolettore per il polo territoriale cinese. Perché poi, appunto, il professor Lucci ci racconterà, ma il Polivi ha ormai da tempo avviato un'azione molto strutturata di presenza sul territorio cinese aggiungendo poi alla costruzione, appunto, di una sede distaccata. Professore, grazie ancora di essere qui. No, no, grazie a lei. Grazie anche per il lavoro che fate come associazione per sensibilizzare il contesto degli individui e delle imprese rispetto ai temi dell'innovazione e ai temi della trasformazione in senso digitale del contesto sociotecnico. Mi lasci dire che la Cina, proprio per entrare immediatamente in tema, è un esempio straordinario di trasformazione, per certi versi impressionante, sul fronte digitale. La Cina è ad oggi il paese che sul fronte digitale è il più avanzato al mondo. Basti pensare che i valori di commercio elettronico, è uscito recentemente un dato, non so chi di voi l'abbia visto, che fatto cento il fatturato retail, in Cina il 52% del fatturato di beni di consumo ormai è in e-commerce. 52%, quindi ha superato le vendite nei punti fisici, giusto per renderci conto di che stiamo parlando. Il valore dei pagamenti digitali è ormai cento volte il valore dei pagamenti digitali negli Stati Uniti. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è molto avanzato, per non parlare di temi come il 5G, di cui per via della vicenda Huawei, praticamente anche mia madre è consapevole di questo tipo di tema. Venendo, questo giusto per dare un sapore di che cos'è la Cina oggi, no? Una Cina che è anche molto avanti, proprio in relazione a questo tipo di basi, anche sul fronte alle smart city. Noi abbiamo città che sono davvero un paradigma, prendiamo Shenzhen, che è il caso più avanzato, che sostanzialmente hanno veramente modelli di smart city straordinari, quasi comparabili con quelli di Singapore. Noi come Politecnico abbiamo deciso di orientare i nostri sforzi di internazionalizzazione nel 2004, e abbiamo deciso di, non so se per fortuna, per lungimiranza, di eleggere la Cina come paese di riferimento alle nostre strategie di internazionalizzazione. Tant'è che è l'unico paese che ha un prolettore. 2004, insomma, parliamo di ben 17 anni fa, e quindi, insomma, tra l'è di lungimiranza, senza dubbio. Ripeto, un mix tra... Comunque, abbiamo... Io ricordo i primi momenti, io intuì comunque che lì... Ma intuì, adesso... Comunque, la percezione fu chiara di un paese delle straordinarie dinamiche di sviluppo e delle opportunità. È un paese anche molto duro, molto complesso, molto difficile, per cui gli italiani fanno molta, 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 molta fatica. Diciamo che, tuttavia, avendo intercettato questo tipo di opportunità, abbiamo sistematicamente investito... Io ho passato per 15 anni tra i 60 e gli 80 giorni all'anno in Cina, quindi ho trascorso moltissimo tempo in Cina, e i primi dieci anni abbiamo, come dire, abbiamo costruito una serie di accordi, ma, come dire, scontavamo rispetto agli americani, agli inglesi, un ritardo comparato. Devo dirle che poi, nel tempo, ci siamo conquistati una fiducia significativa, tant'è che ormai il Polizia Tecnico di Milano è l'università europea più rilevante in Cina, nel senso che noi, al di là di avere una società di diritto cinese che ci permette di gestire tutta una serie di operazioni di trasferimento tecnologico in Cina, abbiamo siglato un accordo, una partnership strategica e un investimento congiunto a Milano con Tsingwai University, che è la più importante università della Cina, e, giusto per capire, nel cui executive board siedono da Elon Musk, passando a Tim Cook, andando e quant'altro. Quindi, l'unico campus overseas di questa università è a Milano ed è da noi al Politecnico di Milano. Quindi, una sorta di scambio, se vogliamo, no? Quindi, il Politecnico... L'idea è di fare in modo che, grazie alla collaborazione delle due più importanti università tecniche dei due paesi, si favoriscono processi di collaborazione sul fronte dell'innovazione congiunti. Loro hanno fatto un investimento abbastanza rilevante a Milano da noi, perché hanno messo sul tavolo 50 milioni di dollari per partire. E in questo diciamo che le opportunità sono davvero molto significative. Si fa un po' fatica con gli italiani, perché gli italiani non conoscono la Cina, non sanno lavorare con i cinesi. I cinesi non sono cartesiani. I cinesi appartengono a un modo di lavorare, di gestire il tempo, che è diversissimo dal nostro. Purtroppo, un tipico errore che l'italiano commette e che fortunatamente il Politecnico di Milano non ha commesso, è di pensare che i risultati in Cina arrivano presto. No. Noi, in questi 18 anni di lavoro, per dieci anni, abbiamo fatto una fatica infernale. Infernale. poi la lungimiranza, la determinazione, la credibilità conquistata e quant'altro ci ha portato poi a seguire un percorso di sviluppo straordinario. Adesso vi cito un altro, anche stamattina, vi cito una cosa che è l'altra iniziativa che ci ha portato ad aprire una cosa in Cina. Poi, gli ultimi anni hanno vissuto dell'energia cinetica che avevamo accumulato e ci hanno portato ad ottenere risultati oggettivamente non pensabili. Infatti, professore, mi scusi, anche per far capire un po' a chi ci ascolta, quando parliamo di polo territoriale cinese del Politecnico, di cosa esattamente parliamo? Parliamo del fatto che la Cina è come se fosse un campus del Politecnico di Milano. Quindi, noi abbiamo cinque campus in Italia, ogni campus ha un prorettore. Allora, simbolicamente, si è deciso al paese Cina di dare un rilievo strategico analogo a un campus fisico in Italia. Noi aprimmo una prima branch nel 2006 a Shanghai in cui creammo con un'università che si chiama Tongji Sino Italian Campus che è stato la piattaforma di partenza con cui abbiamo imparato a conoscere Shanghai e poi la Cina. I nostri professori hanno trascorso, trascorrevano un semestre a Shanghai e hanno cominciato a conoscere i cinesi, la società cinese e quant'altro. Da lì poi, le dicevo, nel 2012 abbiamo aperto una società a Pechino che ci permette di fare quella che è la Continuity Education, quindi educazione e formazione continua. Poi, 2018, abbiamo aperto questa iniziativa gigantesca, molto importante a Milano. Nel 2019, a Xi'an, città famosa per i soldati di terracotta, abbiamo aperto il primo campus overseas del Politecnico di Milano, quindi dentro un Innovation Harbor, quindi un distretto sterminato alla cinese in cui sono presenti tutte le imprese tecnologiche del mondo, hanno lì centri di ricerca, una presenza, tra gli altri anche l'MIT e quant'altro. Lì siamo ospiti, abbiamo una base fisica, un edificio che abbiamo progettato noi, ci hanno pagato i cinesi, perché come dico sempre i cinesi sono ricchi, quindi loro mettono i soldi, noi mettiamo se vogliamo un po' di know-how, perché anche qui comunque siamo molto attenti e rigorosi a tutelare quelli che sono gli interessi del nostro paese, quindi loro ci hanno detto gli lasciamo un libero spazio alla creatività, abbiamo fatto, abbiamo questa base fisica anche molto grande e lì abbiamo adesso, stamattina, abbiamo varato con i vertici di questa università che è tra le più importanti della Cina, creeremo una sorta di mini-university, cioè faremo applicazione al Ministry of Education della Cina per fare in modo che venga lanciato una sorta di mini-università cinese gestita da Politecnico di Milano e che tra gli altri avrà anche come obiettivo di dare degli sbocchi di carriera a nostri giovani che sono interessati a fare una a prendere una tenure una tenure track in Cina e quindi una una prospettiva di come dire di internazionalizzazione matura perché tra l'altro tenete conto che l'obiettivo di fare questa sorta di mini-university joint school di farla con i criteri molto selettivi e con anche tuition fee quindi tasse universitarie degli studenti piuttosto elevate in modo da dare al Politecnico di Milano e al nostro paese il tornaconto che merita perché sostanzialmente sarà rivolto a studenti cinesi con una facoltimista il modello è di condivisione del revenue e di condivisione dei profitti ma nel contempo quindi oltre ai profitti l'obiettivo è di dare posti quindi tenure track a nostri giovani che possono quindi in Cina avere un percorso di crescita della loro carriera poi eventualmente possono ritornare in Italia o andare in altre parti del mondo e questo credo e da questo punto di vista partiremo da un lato con un bachelor con un corso di laurea in design and engineering quindi un approccio multidisciplinare che combina il mondo dell'ingegneria con il mondo del design applicato in che lingua? inglese naturalmente in inglese in inglese noi peraltro come Politecnico di Milano da dal duemila dunque dunque dal duemila e quattro duemila e tre abbiamo master of science in lingue alcuni master of science in lingua inglese dal duemila e dodici tutti i nostri master of science sono solo in lingua inglese quindi e comunque la a maggior ragione avendo facoltinista sarà solo in lingua inglese naturalmente il cinese come dire resta ancora un un prerequisito per chi voglia approcciarsi alla Cina anche attraverso un percorso diciamo accademico di questo tipo oppure è possibile a guardia usare solo l'inglese presidente diciamo che in allora in Cina ormai il livello di internazionalizzazione è molto alto adesso si ridurrà perché gli americani un po' si allontaneranno gli inglesi sono lì un po' indecisi però come dire nei campus che io frequento che ho frequentato ci sono davvero c'è il mondo presente proprio perché ci sono straordinarie opportunità di sviluppo e quindi l'inglese è la lingua che si può utilizzare è chiaro che nel momento in cui uno vive lì e vuole interagire un po' con la società civile fuori dall'università deve impararsi un po' di cinese e su questo però io devo dire parlo pochissimo il cinese ma me la sono sempre cavata quindi però con l'inglese ormai si riesce non in tutta la Cina ma comunque nella Cina che per noi è potabile si riesce a sopravvivere non necessariamente a vivere ma a sopravvivere bene e Shanghai di cui lei parlava poco anzi resta un polo di interesse Shanghai non è Cina Shanghai non è Cina presidente Shanghai ormai è una città molto occidentale con con mi lasci dire io andando spessissimo a Shanghai e andando molto poco a New York recentemente sono andato a New York e visitando Manhattan mi sono reso conto come Manhattan suoni old style rispetto alla Shanghai che io vivo e quant'altro nel senso che Shanghai ha un livello di pressione competitiva un livello di investimenti un'attenzione una presenza occidentale spaventosa io devo dirle che da molto che la mia vita in Cina è partita a Shanghai ma a Shanghai ci vado ormai sempre sempre meno perché non è la Cina la Cina è più interessante in questo momento è tutta nella parte del centro del centro ovest quindi è la parte di Xi'an come dicevo di Chengdu di Chongqing Chongqing è la più grande megalopoli al mondo Chongqing sono 40 milioni di abitanti di fatto non è non è definibile è un agglomerato mentre comunque questo è un asse di tre città che sono al centro della Cina e che sono perché la Cina si è sviluppata molto prima sulla costa per evidenti motivi quindi abbiamo che Tianjin Shanghai Shenzhen Guangzhou Shenzhen Hong Kong evidentemente sono tutte città di straordinaria rilevanza dove ormai il costo della vita il costo della mano d'opera è superiore a quello di Milano quindi i dipendenti che noi abbiamo a Pechino costano uguali a quelli di Milano le case e gli spazi costano molto di più rispetto a Milano questa però questa situazione ha portato la Cina dieci anni fa a spostare l'attenzione verso la parte centrale della Cina perché lì i costi della mano d'opera sono più bassi i costi della mano d'opera sono più bassi e il potenziale di sviluppo gigantesco quindi io è inutile che stia Shanghai come dire dove peraltro occorrono investimenti colossali per farsi notare noi adesso siamo la fortuna a Pechino di avere il cuore dell'impero dell'ex impero di centro cioè la Tsinghua University e la nostra attenzione è tutta su Chengdu Chongqing Xian e quindi io vado ormai sempre più frequentemente lì quindi frequento la Cina la Cina ancora vera nel senso che ripeto a Shanghai ormai non si respira tanto di Cina si respira un'atmosfera internazionale quindi è partita come a Shanghai molti anni ho fatto cosa a Shanghai poi inevitabilmente mi sono spostato e mi sono spostato seguendo la strategia cinese che andava verso l'inland China quindi la parte più centrale della Cina quella che poi va verso il Tibet va verso lo Xinjiang e quindi va verso anche queste zone speciali che tutti noi conoscono e quant'altro lei parlava di trasferimento tecnologico poc'anzi e a questo proposito il trasferimento chiaramente per molti anni noi quantomeno abbiamo un po' coltivato la narrazione della Cina un po' orientata a apprendere dall'Occidente prendere e apprendere diciamo così però secondo lei è il momento immaturo per una binirezionalità un po' di questo flusso nel senso che appunto la Cina io devo dire presidente che la Cina cioè perché ci casca noi come Politecnico io non so che cosa dire se noi approcciamo i cinesi con grande impreparazione facendoci abbindolare da dalle loro da non so dalle opportunità che ti presenti cioè la Cina non è un paese per sproveduti quindi io devo dirle che noi come Politecnico e qualche altro soggetto non universitario ma come la Cina noi ci abbiamo fatto del gran business e abbiamo dato abbastanza abbiamo dato quello che volevamo dare ma le assicuro quindi è davvero una modalità li devi conoscere devi sempre aver chiaro dove vuoi arrivare e devi essere molto determinato gli italiani mediamente arrivano lì dai numeri che tirano fuori loro come dire l'operazione che abbiamo fatto a Xi'An noi ci inserivamo in un investimento da 5 miliardi di dollari che hanno fatto non in 5 anni l'hanno fatto in 12 mesi partenza arrivo partenza arrivo cioè 20.000 persone che lavorano su 3 turni 365 giorni 365 ok è chiaro che uno le persone possono girare la testa bisogna conoscerli bisogna comunque con i cinesi si può lavorare a queste condizioni altrimenti è meglio neanche approcciarli perché sei certo che ti fregano certo perché il cinese è il miglior negoziatore al mondo però professore come ha acquisito lei i suoi il Politecnico questa capacità capisco che poi lei è anche magari del mestiere nel senso anche un professore di marketing e così via quindi sicuramente no 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 però come hai imparato sul campo facendo come le dicevo andando per 10 anni 80 giorni all'anno e prendendo tante sberle quindi all'inizio un minimo quando diceva era dura intendeva in questo senso che ha dovuto poi all'inizio poi io abbiamo investito quindi oggi siamo dotati di persone con profonda conoscenza della Cina persone cinesi hanno fatto grossi investimenti da questo punto di vista senza che tornassi a casa zero zero i primi anni zero come quindi le assicuro è stata una palestra ma ogni giorno ti sorprendono io adesso diciamo penso di conoscerli un pochino ma nonostante tutto ti sorprendono sempre comunque sia andando tantissime volte e di volta in volta facendo tesoro degli errori discutendo con i collaboratori è stata un grande allenamento le assicuro un grande allenamento ci vuoi raccontare un episodio magari così saliente giusto per così rendersi un po' conto lo so potrei raccontare una quantità lo so adesso in questo periodo mi contattano ci contattano in tanti perché per n motivi alcune città hanno diciamo vogliono richiamare università internazionali e allora essendo il Politecnico di Milano l'università europea ormai più rilevante in Cina ci chiamano in tanti l'ultimo è stato un maestro di un maestro di musica che diciamo ovviamente appartenente al partito comunista che ci ha proposto di aprire di riprodurre il Politecnico nell'isola di Aynan no allora io ormai maestro di musica maestro di musica adesso non posso neanche raccontare ma con dichiarazioni allucinanti documenti allucinanti allora siccome qui dietro cosa succede questi qui che cosa fanno prendono il pollo italiano in questo caso un'istituzione cercano di legare il nome di istituzione a un'operazione immobiliare e a quel punto poi spariscono allora io a questi interlocutori e in questi 4-5 mesi saranno 3-4 già che mi hanno contattato la prima cosa che ovviamente non dico subito di no ma so già che dirò di no la prima cosa gli faccio parlare poi dico bene allora facciamo così ti vuoi far questo allora la prima cosa che facciamo è mi accrediti 20 milioni di dollari su questo conto corrente e questo serve per lo studio di fattibilità perché dico questo perché così vai ovviamente tagli immediatamente i cordi fai capire che non c'è da discutere è inutile non stanno perché perché i cinesi ti possono offrire anche spazi giganteschi che a loro costano pochissimo ma questo non è nell'interesse nostro se noi come dire le operazioni che noi stiamo facendo sono operazioni per la valorizzazione del nostro capitale umano a me non interessa come Politecnico nessuna operazione immobiliare quello che noi interessa è volete come dire avete bisogno di qualcosa di alcun contributo di conoscenza al netto e ce lo diciamo tra di noi che è il contributo che decidiamo di darvi ma a parte questo pagate le persone noi non ci interessa assolutamente nulla dal punto di vista dei vostri edifici e quant'altro che peraltro è chiarissimo professore e tutto questo come è sicuro scusi presidente vi assicuro che molti italiani ne risultano inebriati perché vi fanno vedere cose che in occidente non sono immaginabili e non si rendono conto che o vengono usati o chiaro chiaro mi dica come lei ha accumulato lei insomma la sua struttura il suo team in Politecnico nel suo insieme avete accumulato appunto questa competenza non questa capacità di trattare di negoziare insomma favorevolmente con con i cinesi con la Cina come insomma si preoccupa ad esempio di avere la possibilità di trasmettere questa esperienza anche attraverso dei corsi di laurea in Italia per chi volesse per imprenditori ad esempio visto che appunto lamenta noi facciamo iniziative sì innanzitutto noi abbiamo nostri studenti molti che vanno in Cina e che poi non vogliono più tornare indietro perché una volta che hanno respirato la vivacità il dinamismo cinese quando ritorni in Europa sempre di andare i cinque all'ora no? sei sulla Ferrari e vai i cinque all'ora che era che è un po' come dire ogni volta che io atterro in Europa hai quella sensazione di di andare col freno a mano tirato rispetto a quello che succede là no? Quindi uno abbiamo i nostri studenti che vanno là e fanno fatica a tornare indietro non perché ripeto là sia più bello che qua ma perché là c'è un dinamismo che forse noi abbiamo risposto ma forse nel dopoguerra abbiamo avuto ma moltiplicato per 50 sempre quello moltiplicato per 50 poi noi facciamo sì corsi devo dirle però che l'Italia l'italiano le imprese italiane hanno una scarsa attribuiscono un modesto valore alla formazione e alla preparazione quindi paradossalmente sono più i cinesi che formiamo per capire l'Europa che gli italiani per capire la Cina i nostri fenomeni vanno là e poi tornano indietro con le pive nel sacco ma attenzione anche aziende molto note adesso per pudore non faccio nomi ma ho visto veramente prendere delle cantonate colossali ma per impreparazione per improvvisazione quindi comunque sì noi come Politecnico siamo ampiamente tra l'altro abbiamo una business school deputata a questo che è il MIP e devo dire che facciamo iniziative ma hanno molto più successo con i cinesi che con gli italiani ed ecco poi perché appunto un po' il business model di cui si parlava prima offerta formativa per il pubblico finito guardi la Cina è ossessionata dall'aspetto cioè la Cina io ho sempre visto ministri o diciamo funzionari e quant'altro dirmi vedi tu guarda la crescita della Cina dal putista del PIL guarda la crescita degli investimenti nel sistema educativo e capisci perché noi cresciamo e perché abbiamo ancora molto lavoro da fare perché il nostro sistema educativo non è ancora sufficiente ma loro diciamo da Deng Xiaoping in avanti hanno avviato una traiettoria di crescita degli investimenti nella formazione pazzesca pazzesca cosa che in Italia adesso fortunatamente il presidente Draghi sembra avere riportato all'attenzione del dibattito pubblico il tema della centralità della crescita delle competenze del capitale umano perché senza questo non andiamo da nessuna parte signori i cinesi sono ossessionati ossessionati dalla necessità di formare i giovani e i talenti su questo su questo le chiederei secondo lei la preferenza della appunto della così piani se vogliamo no di questi programmi così così ampi di formazione e per le discipline STEM immagino già insomma la risposta oppure ecco un programma umanistico immagino che chiaramente secondo lei è una domanda che trovo in casa allora diciamo che loro hanno però ci sono degli aspetti interessanti allora è chiaro che loro scusate ho sto cane che è arrivato sono arrivati probabilmente delle persone a casa mia loro puntano molto sulle discipline STEM tuttavia sono consapevoli della necessità di adottare di fare un salto da questo riguardo che è il tema della multidisciplinarietà della cross disciplinarietà quindi da questo punto di vista da questo punto di vista questo è il contributo che chiedono a noi perché loro sostanzialmente hanno ad esempio degli ingegneri informatici straordinari ma il tema è che gli manca la capacità di combinare che ne so l'aspetto di information technology con aspetti di anche di design o comunque di gestione dell'innovazione e quant'altro quindi noi stiamo sviluppando con loro che è poi quello che facciamo al Politecnico di Milano tutta una serie di griglie educative multidisciplinari che si inseriscono in alcuni pilastri delle STEM ma che poi fanno un allargamento dal punto di vista della matrice delle competenze che viene che viene offerta quindi un po' il modello ad esempio le do un dato do un dato adesso noi variamo come le dicevo con Xian un percorso che combina ingegneria e design per combinare due metafore di progettazione dell'innovazione che apparentemente sono gli opposti ma che in realtà possono stare molto bene insieme allo stesso modo il secondo bachelor è un bachelor che lanciamo in architettura ma applicata alle smart city quindi un connubio tra architettura e tecnologia applicato allo sviluppo urbanistico ok lei come sa in Cina come le dicevo anche prima la possibilità di di fare di fare davvero città smart è pazzesca e quindi lì ci si può divertire devo dire che anche i nostri architetti hanno scoperto un mondo straordinario perché ho fatto molta fatica a portare gli architetti in Cina perché gli architetti ho fatto fatica ho fatto fatica adesso devo dirle che questo si conosco un po' appunto le diciamo quel mondo perché tra l'altro ho avuto la fortuna di riconoscere personalmente l'autore del padiglione italiano a Shanghai nel 2010 è un po' unbrighi e effettivamente Tom mi raccontava che vogliamo in Shanghai poi interessante tra l'altro lei come sa il padiglione italiano a Shanghai è stato il secondo padiglione più visitato dopo il padiglione cinese quindi è stato straordinariamente apprezzato dai cinesi perché poi l'Expo di Shanghai era un evento ad uso interno non gliene fregava niente che arrivassero visitatori stranieri volevano far vedere come quelle Olimpiadi che la Cina è ritornata al centro del mondo questo era l'obiettivo di 2008 Olimpiadi 2010 World Expo e lo hanno raggiunto ma su questo secondo secondo lei ci sarà qualche prospettiva diciamo di miglioramento rispetto quindi a quella che è la nostra capacità parlo di capacità con il sistema paese al di là dell'eccellenza dei Polimi la nostra capacità appunto di investire e soprattutto di avere un ROI significativo al di là anche noi non dobbiamo procedere in ordine sparso purtroppo gli italiani sono abituati a lavorare in ordine sparso devo dirle che se io fossi nel governo farei leva ad esempio tra gli altri su un'università come il Politecnico di Milano fino adesso devo dirle noi per fortuna siamo straordinariamente autonomi e siamo molto più avanti di quello che ha fatto il paese Italia anzi quando voglio dire siamo noi che abbiamo fatto abbiamo aiutato però non c'è occorre che ma con Draghi arriverà anche questo occorre quando si dice far sistema non si deve dirlo bisogna farlo per farlo occorre capitalizzare su quelli che sono i punti di forza e su quelli costruire massa critica in Cina dove ci sono 200 città con più di un milione di abitanti mi dica lei come io ho visto delle cose in Cina che gli umani non possono vedere ho visto singole città italiane promuoversi in Cina ma lei mi dica ho visto città da 200.000 abitanti che andavano lì a promuoversi non fanno neanche una via di Pechino ha capito? si si non rende l'idea rende l'idea cioè il quartiere centrale di Pechino è 7 milioni un quartiere un quartiere 7 milioni di abitanti venivano città a promuoversi delle Marche dell'Umbria ma voi volete andare voi volete andare un cinese per muoversi l'insieme minimo che considera l'Europa e l'Europa io vedevo singole città venire lì a spendere i soldi italiani e ottenere zero durante il conte 1 abbiamo avuto un sottosegretario al Mise che conosce la Cina Michele Michele Geraci quel governo secondo lei è stato comunque si è un po' ecco differenziato dagli altri rispetto alle competenze e all'azione verso la Cina oppure finora non abbiamo un vincitore si è differenziato quel governo lì dagli altri? sì nel senso un membro del governo ma quel governo lì quel governo lì innanzitutto da un punto di vista tecnico chiaramente non no 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 certo diciamo che in realtà quel governo lì ha quell'operazione della firma del memorandum understanding in realtà non era di quel governo lì ma era un'operazione che era partita col governo Gentiloni che quel governo e che era stata preparata io tra l'altro in quel periodo del 2017 ero lavoravo col ministro del Rio nella struttura tecnica di missione proprio per promuovere rapporti con la Cina quel governo lì se l'è trovato addosso e non l'ha gestita perché poi alla fine hanno mandato tre o quattro casse di arancia quindi andare a firmare un accordo che io quello che ho sempre detto e che dissi al governo italiano nel 2017 se noi vogliamo firmare l'accordo che vuol dire dare un riconoscimento enorme politico alla Cina dobbiamo portarci a casa A B C D E F che adesso non dichiaro ma era l'unica che sostanzialmente dalla A la F serviva per recuperare lo svantaggio comparato che avevamo con la Germania e con la Francia perché guardi bene che tutti ci hanno criticato ma alla fine tutti hanno fatto affari 20 volte più grandi degli italiani gli italiani si era impostato un certo discorso poi campagna elettorale cambio di governo io onestamente non so come l'abbiano gestita diciamo che però A B C D E F che gli ho detto prima è stato portato a casa a zero e quindi alla fine della fiera cosa hanno fatto hanno dato riconoscimento politico alla Cina senza aver portato a casa nulla quindi se devo darle tecnicamente la valutazione di quella di quell'operazione do 4 4 decimi nel senso che quell'operazione lì non è stata gestita non è stata gestita poi a un certo punto siccome non è stata gestita ma era irreversibile se la sono trovata addosso e il treno non si poteva più fermare per n motivi l'hanno firmata ma hanno però da che era zero zero quindi io purtroppo da un punto di vista tecnico lungi da me fare qualsiasi altro tipo di valutazione cioè non hanno gestito la negoziazione con i cinesi i cinesi hanno portato a casa tutto noi hanno portato a casa niente e molto spesso capita con i cinesi perché noi andiamo là così con Guasconi loro sono preparatissimi anche se noi siamo 50 volte più piccoli di loro loro ci studiano hanno dossier molto chiari obiettivi molto chiari noi spesso siamo andati là con ministri non parlo degli ultimi parlo degli ultimi 18 anni con ministri che si leggevano in aereo più o meno cos'era la Cina sì in effetti questo poi è un tema è un tema un po' sì se vogliamo anche sconcertante il fatto che la Cina prossimo Europa siamo stati noi italiani a scoprirla con Sarti eccetera però poi non come dire oggi non la conosciamo più no? noi italiani la Cina da un anno con l'altro è pazzesco quindi come dire la dinamica evolutiva della Cina fino ad oggi fino ad oggi non è immaginabile nel mondo occidentale non è immaginabile quindi al di là oltre in questi io in questi 18 anni che frequento la Cina è cambiata in misura faccia conto che quando io andavo le prime volte non esisteva la carta di credito esisteva sostanzialmente il contante per tutto anche per comprare le macchine ha perso in fuoco la telecamera comunque anche le macchine si compravano in contanti loro hanno dal contante hanno praticamente saltato il circuito delle carte di credito e adesso fanno tutti i pagamenti digitali con lo smartphone questo poi è il vantaggio di chi viene dopo se vogliamo esattamente questo è il vantaggio di interlocutori che sono rinati con tecnologie state of the art quindi loro hanno avuto le incrostazioni dell'epoca analogica moderna quindi loro sono ripartiti e sono ripartiti digitali difatti se tu parli di new media i cinesi dicono what's new media nel senso che loro sono rinati con internet il paese che è nativo digitale se vogliamo nel suo insieme è sostanzialmente nativo digitale ma davvero nativo digitale perché loro hanno avuto il processo di sviluppo che è partito da basi digitali e non a caso avete visto anche l'ultimo numero dell'economist no? di come Uber non ce l'abbia fatta in Cina ammesso che ce la faccia da altre parti ma in pochissimo tempo è stata sconfitta perché lì si è trovata dei player si è trovata città gigantesche con player molto molto sviluppati che è Didi in questo caso e che ha fatto un mazzo a Uber rimasti lì un anno e mezzo sono dovuti scappare perché lì da punto di vista digitale tra l'altro è davvero una dimensione diversa no? nel senso che in Cina l'internet esiste sostanzialmente a livello mobile l'80% del fatturato e-commerce è m-commerce e sostanzialmente non avviene su siti web ma avviene su WeChat sui mini program di WeChat quindi non esistono i siti web esistono un ecosistema WeChat in cui ci sono mini programmi su cui da cui accedi a informazioni e a tutti i servizi perché dentro WeChat uno può far tutto prenotare il taxi far commercio elettronico prenotare pasti e quant'altro ed è quello che magari forse da noi vedremo nei prossimi anni ad esempio con l'integrazione delle app di messaggistica con sistemi di pagamento Whatsapp già fuori dall'Europa sì WeChat nasce come copia di Whatsapp però come tutti i processi di innovazione cinesi partono come copia e poi si sviluppano in modo esponenziale ora WeChat non ha nulla a che vedere con Whatsapp ed è è un ecosistema in cui davvero un individuo fa tutto tutto senza dover andare sul web da lì si fa tutto Whatsapp probabilmente andrà in quella direzione ma però naturalmente in Europa siamo un po' limitati in Europa in occidente non è la questione antitrust gestione dei dati sì e poi siamo piccoli capisci io non dimenticherò mai quando in una riunione di un consiglio di amministrazione a Shanghai di una realtà incontrai una persona molto importante un imprenditore molto importante che mi disse io in Europa non vengo perché siete troppo piccoli io amo i business scalabili voi siete 700 milioni e siete diversissimi un paese con l'altro un paese da 30 milioni è una città mia cioè di cosa stiamo parlando tenga conto che in Asia ci sono 4 miliardi di persone in Europa 700 milioni questo lo dico per far capire anche i nostri amici romani che pensano che Roma sia ancora caput mundi perché io purtroppo quando vengo a Roma e ci venivo spessissimo cioè respiravo un'aria strana cioè la sensazione è che tutto passa ancora da Roma o dall'Europa l'Europa è periferia del mondo dobbiamo rendercene conto siamo pochi lo capisce solo come dire viaggiando spostandosi è ovvio ma siamo pochi siamo pochi vecchi non cresciamo economicamente siamo divisi 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 nel senso non siamo scalabili cioè fare business in Italia e fare business in Belgio hai un sistema di regole completamente diverso sì sì guardi lo capisco perfettamente infatti io in questo momento sono in Belgio e conosco un po' l'ambiente non lo sapevo effettivamente come dice lei completamente ad esempio i settori delco i settori d'energia sono settori che sono completamente quindi da questo punto di vista noi dobbiamo dobbiamo renderci conto che il mondo è molto cambiato peraltro è ritornato a quello di tre secoli fa perché se lei prende tutte le proiezioni macroeconomiche dal 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 primo secolo dopo Cristo fino al diciannovesimo secolo la Cina è sempre stata la prima potenza economica e tecnologica tranne magari uno due secoli in cui c'era l'impero romano ma poi del resto non ha più toccato palla solo che non erano connessi quindi si ignoravano reciprocamente tranne poi la via della seta col commercio di prodotti spezzi e beni di lusso e quant'altro ma alla fine in realtà il mondo che è adesso connesso sta ritornando a una situazione di stabilità di 18 di 20 secoli dopo Cristo la prima potenza tecnologica e la prima potenza economica erano Cina e India il rapporto con l'India come va? tra Cina e India o no? tra Cina e India beh allora è chiaro che sono due rivali a Cerrimi perché lì poi si trova la partita dell'Asia no? di fatto sono i due sì ma l'India l'India che io conosco perché sono stato delegato del rettore per l'India anche poi a un certo punto ho detto è un po' troppo e soprattutto poi mi volevo concentrare sulla Cina l'India ha dei problemi di fondo giganteschi il primo infrastrutturalmente 50 anni indietro rispetto alla Cina quindi anche quando mi parlano di catene di fornitura che escono dalla Cina io non ci credo perché la Cina dà alle imprese una logistica che nessun altro paese al mondo dà in Cina ci sono un numero di aeroporti un numero di chilometri di alta velocità un numero di porti che nessun altro paese in Asia ha l'India è 50 anni indietro ma 50 anni dalla Cina quindi ok punto uno punto due l'India non è un cioè l'India sono 30 paesi diversi perché è mica vero che sono un miliardo e mezzo di persone non è mica vero sì sono un miliardo e mezzo ma ogni stato lì gioca la sua partita e quindi tenerli insieme da un punto di vista politico è un dramma e difatti come vediamo nonostante siano tantissimi e giovanissimi non riescono mai a esplodere nonostante abbiano anche come dire un mindset matematico particolarmente portale poi hanno quella struttura a caste che oggettivamente non è penalizzante di più perché la struttura a caste indiana è un freno pazzesco c'è un fattore di staticità sociale spaventoso perché quando mi dicono in India ci sono ottime università vero accessibili allo 0,2% della popolazione indiana io sono andato all'università indiana sono delle stalle poi nella casta degli elevati ma ci va lo 0,2% quindi quelle università lì non sono fruibili per il paese quindi quindi l'India avrà secondo me delle grosse difficoltà legate tra gli altri a questo tipo di fattori è chiaro che l'India teme molto la Cina la Cina ha bisogno di gestire di aver maggior sicurezza nell'Indo-Pacifico perché l'80% delle merci transita che vanno verso l'Europa transitano via mare quindi da un lato c'è tutto lo scontro sul Tibet perché il Tibet è lo snodo che permetterebbe alla Cina di arrivare tramite il Pakistan poi di arrivare al mare saltando l'India dall'altro lato comunque c'è tutto il tema del mare del sud della Cina sudorientale dove ci sono tutta la contesa col Giappone dove però l'India incombe quindi con l'India l'India è incombente per presunto potenziale di crescita ma è incombente in quanto nella strategia di export della Cina è presente geograficamente i snodi cruciali e questo è oggettivamente più importante secondo lei la partita però insomma ce l'ha anche già detto di fatto la partita per l'Asia si giocherà insomma sono un po' su questo piano e date le premesse insomma immagino che non possa avere altri vincitori che la Cina stessa dipende poi dipende si è formato in Asia il cosiddetto quad cioè un'alleanza tra Cina scusi Cina India Stati Uniti Australia Giappone bisogna vedere Biden che inevitabilmente quando quello che dobbiamo capire è che anche lì la Cina gli Stati Uniti dell'Atlantico sono forzati a interessarsi sempre meno perché gli interessi stanno tutti nel Pacifico l'Atlantico devono gestire i non belligeranti europei ma la vera tensione starà tutta nel Pacifico e starà verso l'Asia perché ripeto sono 4 miliardi di persone 4 miliardi tra l'altro in Europa sono 700 milioni ma a 50 anni data andiamo a 600 milioni quindi noi siamo come dire in calo là non cresceranno tanto ma sono quanto meno stabili e sono molto giovani quindi dipenderà se gli Stati Uniti che hanno pagato la scellerata scelta di Trump di uscire dall'accordo transpacifico che hanno fatto un regalo alla Cina straordinario difatti la Cina non ci credeva quando Trump è uscito ha fatto la prima morsa di uscire dall'accordo transpacifico che aveva siglato Obama che era un accordo tra 11 paesi asiatici in cui la Cina era fuori questo qua primo atto ha deciso di uscire dall'accordo questi qui non ci credevano difatti come avete letto sui quotidiani a fine dicembre hanno stipulato il sostituto di questo accordo che è la Regional Economic Comprehensive Partnership dove a dispetto di quello che dicono si legge in Occidente hanno messo insieme tutti tranne l'India ma anche nemici storici come il Giappone perché nessuno in Asia può fare a meno della Cina parliamoci chiaro allora la variabile qui per capire se poi è gli Stati Uniti d'America che politica avranno come si porranno rispetto alla Cina e che politica saranno in grado di mettere in campo per cercare di togliere dall'orbita di influenza cinese i paesi che grazie alla politica trampiana sono entrati velocemente lo erano già ma gli hanno serviti sul piatto d'argento di andare nell'orbita cinese quindi adesso prego no 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 prego professore no no diciamo che le dinamiche sono tali per cui non c'è nulla di prevedibile però se io dovessi scommettere un penne in questo momento lo scommetterai sulla Cina non sull'India ed è chiaro che in tutto questo l'Europa scompare però a proposito l'Europa non tocca palla l'Europa è giusto giusto per così almeno no ma la gente deve rendersi deve uscire dall'Europa e andare a vedere cosa succede fuori dall'Europa finché rimaniamo in Europa ce la cantiamo ce la suoniamo sono accolto con lei sono accolto con lei però nel momento in cui adesso almeno fisicamente in questo momento ci siamo anche per capire un po' ecco la prospettiva vista da qui a proposito l'ultima domanda che ti farei a proposito appunto di accordi di comprensione di agreements accanto a quello all'uovo appunto di cui ho parlato un attimo fa c'è anche quello bilaterale EU che è pubblicato pubblicato appunto a dicembre il 30 dicembre il 30 dicembre il 30 dicembre no su questo secondo lei è uno strumento che può avere un minimo di efficacia o comunque ma guardi è un passaggio secondo me allora è un passaggio importante allora ovviamente in occidentali va letto in una prospettiva strana allora punto uno eh allora l'interscambio Cina e Europa sono ormai 800 miliardi di dollari e la Cina ha superato gli Stati Uniti come primo partner commerciale dell'Europa ok quindi è evidente che la Cina nonostante cioè nonostante come dire giustamente il rispetto del patto atlantico per l'Europa non è che possono come dire chiudersi gli occhi tirarsi giù le braghe e aspettare che qualcuno gli faccia del male cioè l'Europa non può prescindere dalla Cina non c'è niente a fare perché è un mercato straordinariamente importante quindi quel quell'accordo che parliamoci chiaro è un accordo generico non vincolante cioè è un accordo che comunque uno qualifica il fatto che l'Europa non può come dire ha un'alleanza militare di valori che è l'alleanza atlantica ma dal punto di vista commerciale non può prescindere da Est e in particolare dalla Cina quindi questo accordo sancisce punto uno questo punto due è un accordo fortemente voluto dalla Merkel perché la Germania è l'unico paese avanzato ad avere una bilancia commerciale positiva con la Cina punto tre è l'affermazione a Biden guarda che non è che stiamo lì ad aspettarti quindi arrabbiati pure ma come dire le nostre carte ce le giochiamo in modo maturo quindi secondo me quarto elemento si dice ma abbiamo siglato un accordo ancora peraltro ripeto labile con un paese che non rispetta i diritti del lavoro e fa è vero questo però dal mio punto di vista riusciamo ad andare più avanti rispetto a questi valori insindacabili per noi se teniamo aperto un dialogo rispetto alla chiusura la chiusura inevitabilmente porta quel paese ogni paese a rinchiudersi su se stesso e ad atrofizzarsi su in fondo la tanto vituperata entrata nel VTO certamente non ha portato la Cina ad essere un paese democratico ma era da pazzi pensare che la Cina diventasse un paese democratico cioè da pazzi suonati però ha fatto fare dei passi importanti alla Cina in termini di liberalizzazione dell'economia quindi in questo senso l'accordo pur avendo quei vulnus dal punto di vista valoriale secondo me dobbiamo valutarlo nella prospettiva di tenere aperto un dialogo e contribuire a migliorare determinate situazioni nella consapevolezza signori che comunque noi non cambiamo un paese che da millenni è imperiale là sono imperiali e noi vogliamo esportare la democrazia ma a loro gliene frega ben poco della democrazia perché loro sono confuciani ordine e gerarchia punto piaccia o non piaccia sono così però insomma come diceva almeno un accordo può essere un modo per aprire un dialogo a tenere aperto il dialogo scioglie posizioni li aiuta anche loro quindi secondo me abbiamo fatto bene a tenere aperto il Vaticano impariamo dal Vaticano il Vaticano nonostante i problemi giganteschi che hanno per la nomina dei Vescovi e quant'altro in realtà non chiude il dialogo lo tiene costantemente aperto perché tenendo aperto si ha capacità quantomeno di influenza se lo chiudi non ce l'hai più per definizione lo cambia un po' standoci dentro eh ci voglio dire in catena ecco poi ripeto nella consapevolezza perché così come i cinesi non possono imporre nulla da noi noi non possiamo cambiare culture radicate in migliaia e migliaia di anni cioè non è che non le possiamo cambiare ma non le cambiamo sulla scala dei decenni la cambiamo su scale molto più ampie in fondo la stessa democrazia in Europa non è che sia un fenomeno straordinariamente antico eh ricordiamoci quindi cioè noi abbiamo avuto la fortuna di apprezzare questa straordinaria architettura politica eh ma l'abbiamo per l'ultimo secolo a tratti quindi dobbiamo renderci conto che anche noi ce la siamo conquistati e noi dobbiamo tenere il dialogo aperto per cercare di non in dieci anni o in vent'anni ma di favorire un eventuale percorso che va in quella direzione ma che lo misuriamo sui secoli non lo misuriamo sui sugli anni decenni professore mi permetti un'ultimissima domanda provocatoria lei se potesse rinascerebbe in Cina no no io rinascerei fermamente in Italia che è un paese straordinario in cui la qualità della vita per è unica quindi io rifarei quello che ho fatto cioè da italiano farei diciamo business universitario come ho fatto in Cina mi sto trovando straordinariamente bene quindi sto bene là là si fanno cose che in occidente non si fanno ma poi come dire vado e torno vado e torno avere un ancoraggio in un come dire l'italiano non si rende conto che quando si alza la mattina caro presidente ha una prima fortuna che un asiatico non ha che si chiama blue sky cielo azzurro ecco noi non ci rendiamo conto che già questo è un fatto che fa turismo e lei lo dice da milanese professore io lo dico da milanese insomma quindi lo dico da da milanese imbruttito che ama moltissimo io non vivo a Milano comunque vivo in campagna perché a me piace appunto la natura quindi anche adesso io non sono in Milano ma sono in mezzo alla campagna in mezzo ai campi comunque sia certamente non in zone straordinarie come Napoli la pulpo ma come tantissime zone anche montane del nord Italia per dire comunque che queste cose sono cose impagabili quindi io non potrei mai come dire auspicare di sì di nascere in una città straordinaria che mi può dare come dire montagne di opportunità ma come dire io da pendolare ci sto un gran bene perché quando devo fare determinate cose le faccio là quando invece devo star bene sto qua certo fare business qui è un po' difficile voglio dire nel senso che per quello che sappiamo di fatti vado là come parlo di business universitario e quindi la possibilità di coniugare queste due cose devo dire quindi rispondendo i figli no sono orgogliosamente ripeterei la mia nascita poi a Mantova perché io sono a Mantova anno di nascita quindi rinascerei a Mantova risiederei in Italia viaggerei costantemente come sto viaggiando in Cina e in Asia in generale perché così è bello bene professore grazie grazie mille questa questa così insomma ultima nota mi ha fatto un viaggio un breve viaggio voglio dire perché si potrebbe fare quando si parla di Cina si possono parlare per mesi 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 perché le esperienze che si hanno sono incredibili comunque bene spero di essere stato quantomeno di aver solleticato un po' di amici che ci hanno seguito che ringrazio di cuore per la loro pazienza e per aver trovato del tempo per aver seguito questa nostra piacevole chiacchierata per la quale la ringrazio moltissimo per l'invito e per lo scambio di Dio grazie a lei grazie a lei professore e buon lavoro arrivederci arrivederci no